I casi giornalieri di Covid in Cina hanno fatto registrare un nuovo record dall'inizio della pandemia, 31.454 casi, un'impennata che ha spinto le autorità a decidere per una serie di chiusure a Pechino di luoghi pubblici, attività commerciali e scuole. Iniziate anche test di massa su tutta la popolazione, a Zenzung lockdown in diversi distretti con proteste presso il megaimpianto che assembla il 70% degli smartphone di Apple. L'ondata crescente di casi arriva settimane dopo che il paese aveva leggermente allentato alcune delle sue restrizioni.